A pochi giorni dal secondo anniversario dell'invasione russa in Ucraina, mercoledì 21 febbraio, Vladimir Putin ha visitato uno stabilimento aeronautico di Kazan, nella Repubblica del Tatarstan. Il sito si starebbe preparando per la produzione di un bombardiere strategico supersonico ad ala variabile, che può essere equipaggiato con armi nucleari. Nonostante le perdite, gli analisti prevedono che nel 2024 un terzo della spesa pubblica e Russia riguarderà proprio il settore militare. Volodymyr Zelensky continua invece a lamentare una carenza di forniture militari, in particolar modo munizioni, droni e armi per rispondere alle pressioni sul campo di Mosca. Nel frattempo, l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari ha dichiarato che nel 2024 saranno necessari 3,1 miliardi di dollari di aiuti umanitari per Kiev. Nonostante il sostegno internazionale, sono quasi 6,5 milioni i rifugiati ucraini che hanno cercato rifugio nel mondo, mentre circa 3,7 milioni di persone sono ancora sfollate nel paese.